e beh beh si fa la pisciata tirati su di scatto Aiz con la testa invisibile hai fatto il filmato della pisciata? certo che l'ho fatto intanto i due non arrivano è bellissimo fai un salutino a telecamera Aiz ciao mamma sono contento di essere arrivato uno e soprattutto il titolo di questo video sarà fuck the vegetale fuck the vegetale comunque ho lasciato passare anche Tedesmo prima mi siete arrivati a 10 metri si lo so però non potevi mirare no non volevo sparare perché pensavo che ingaggiasse voi non so ma non ci abbiamo visto noi non ti abbiamo un cazzo visto d'altronde è conciato così è un po' difficile ragazzi continuiamo